Grazie a Praga, grazie al Quirifilm Festival, sono onorata e felice del premio che la giuria mi ha dato, grazie quindi alla giuria del festival. Sarei venuta molto volentieri a Praga, non sono mai stata a Praga, quindi sarebbe stato un motivo in più per venire con grande felicità. Io mi trovo a Los Angeles, o per fortuna, sto presentando il film in competizione a un festival qui a Los Angeles, e quindi mi è proprio impossibile venire a ritirare il premio personalmente, ma questo videomessaggio è proprio la testimonianza di quanto sono felice e di quanto vorrei essere lì vicino a tutti, quindi grazie ancora.